Il penultimo appuntamento degli incontri senza censura per l'edizione invernale del 2011 e questa sera qui alla Libreria La Bassanese abbiamo il piacere e l'onore di intervistare uno dei più importanti volti noti della trasmissione di Ray Trek e Tempo che fa, Luca Mercalli, uno dei più importanti meteorologi, scienziati italiani. Il suo libro è piuttosto significativo e ha un titolo che lo è altrettanto, prepariamoci. Dottor Mercalli, a cosa ci dobbiamo preparare? Ci dobbiamo preparare a un mondo che sarà molto diverso da quello che è stato negli ultimi decenni nel nostro opulento occidente. È un mondo dove cominceremo a vedere la spia rossa della riserva che si accende in tanti settori della nostra vita quotidiana. Si accende nel settore energetico, in quello alimentare, in quello delle risorse minerarie. Tutti questi problemi ovviamente oggi sono subdoli e direi offuscati soltanto dall'economia. Ci sembra che tutto ciò possa essere ridotto soltanto a un problema di soldi, di moneta che gira, di finanza mal costruita. In realtà il fatto che la crisi economica cominci a dirci che qualcosa non funziona nella nostra struttura del mondo ormai globalizzato, attinge a problemi fisici. Sotto l'economia ci sono le risorse, ci sono le materie prime, c'è la facilità di estrarre petrolio. Oggi abbiamo un petrolio più difficile rispetto a quello degli anni scorsi e non dimentichiamo che tutta la modernità attuale è basata sul petrolio. Non dobbiamo dimenticare che noi siamo una generazione, insomma questo dopoguerra in particolare dagli anni 50 in poi, della grande motorizzazione del mondo è frutto esclusivamente del petrolio facile a basso costo che ha inondato l'umanità che è passata tra l'altro anche da 2 miliardi negli anni 20 a ben 7 miliardi oggi. E' tutto grazie al petrolio, è il petrolio che ha reso disponibile una maggiore produzione alimentare in agricoltura, che ha permesso conquiste, campo tecnologico, medico, sanitario, solo che oggi la situazione si sta fuggendo di mano. La popolazione è aumentata come non mai e 7 miliardi sono un numero veramente gigantesco, affamato di desideri una parte e dei mezzi di sussistenza primaria purtroppo ancora un'altra e le risorse sono in diminuzione. Ora tutte queste cose erano state già calcolate, predette, immaginate e l'avvertimento già diffuso quasi 40 anni fa, nel 1972 con il famoso rapporto i limiti dello sviluppo fatto dai ricercatori dell'MIT su richiesta del Club di Roma. Quest'analisi è stata completamente ignorata e oggi emerge prepotentemente con tutti i dati, i numeri che vediamo qua e là, pubblicati sui giornali ma mai messi in relazione col fatto che il mondo ha una dimensione finita e ha una quantità di risorse esauribile e ha un inquinamento invece che continua ad accumularsi dai cambiamenti climatici agli inquinanti che fanno male purtroppo la nostra salute. Ecco, in sintesi, noi dobbiamo prepararci a tutto questo. Prepararci vuol dire, secondo me, salvare ciò che di veramente importante c'è da salvare di questa modernità e sbarazzarsi prima possibile della zavorra. La zavorra sono un certo tipo di mode, un certo tipo di oggetti superflui che ci è stato imposto anche, e ritornare un po' all'essenziale di quello che veramente fa bella la vita oggi e sono poche cose alla fine. Anche perché ritornando all'essenziale, magari abbandonando questi status symbol, si può anche, non dico aggirare il problema, anche risolverlo. Sì, perché molto di tutto ciò costituisce oggi un grande peso ambientale, un grande peso nel dispendio energetico, nella produzione di inquinamento e tra l'altro costituisce anche un modello completamente sbagliato per quella parte di popolazione che si sta facciando oggi ai consumi. Cioè se il modello per un cinese, se il modello di benessere è possedere un SUV, non ce la faremo mai. Se il modello di benessere per un cinese, perché diamo noi il buon esempio, popolazioni occidentali, che hanno passato prima a questo momento, è qualcosa di un po' meno materiale, di più spirituale. Non parliamo dei bisogni primari, questi devono essere soddisfatti. Io voglio dire, tutti hanno diritto di mangiare, di avere una casa calda. Però ecco, se abbiamo diritto tutti di fare la doccia calda, almeno facciamola con i pannelli solari. Se abbiamo diritto tutti di muoverci, almeno facciamola con un'automobilina piccola a basso consumo. Se abbiamo diritto tutti di vestirci, non abbiamo bisogno di una moda che ci fa buttare via gli abiti buoni ogni sei mesi. Ecco, sono poi queste le cose che dobbiamo fare. E poi avere il coraggio di calcolare, e oggi possiamo farlo con i metodi scientifici di cui disponiamo, qual è il capitale della terra su cui possiamo contare e smettere di moltiplicarci. Perché altrimenti per ogni passo che facciamo di conquista culturale su questi problemi, se saremo 9 miliardi nel 2050, ragazzi, non ce la possiamo fare. Ecco, lei ha parlato di energie rinnovabili e ovviamente la correlazione è col petrolio. È possibile che in un mondo così evoluto, nel quale le energie rinnovabili stanno trovando sempre un maggiore sviluppo, non ci sia ancora la capacità di abbandonare il petrolio? O perlomeno c'è qualcuno che è responsabile di questa scelta? No, è una questione molto complessa. Le energie rinnovabili si stanno affacciando ora a un mercato che è accettabile sia sul piano ingegneristico sia sul piano economico. Non poteva essere fatto comunque per tante cose prima perché mancava proprio la conoscenza. Oggi come oggi le energie rinnovabili possono soddisfare una piccolissima percentuale. Parliamo delle rinnovabili nuove, lasciando fuori l'idro elettrico che è l'unica rinnovabile che ha un peso già notevole oggi. Le altre le contiamo a meno di uno o due punti percentuali. Il petrolio la fa ancora da padrone. Bisogna innescare una transizione, questo sì, non si può pensare di cambiare il mondo dalla sera alla mattina. Però bisogna essere convinti che si può fare e bisogna cominciare fin da subito. Ci vorranno decenni per farlo. Non è che il petrolio dall'oggi al domani può sparire dalla nostra scena. L'importante però è avere questa consapevolezza e porsi questa rotta. Se invece osteggiamo questa transizione avremo un doppio problema. Il petrolio comunque finirà e quindi non ci saremmo preparati in tempo. E in più questo ci lascerà una drammatica eredità ambientale. Ovviamente lei ha parlato prima degli studi effettuati nell'arco degli anni 70. E già all'epoca c'era una spia, un qualcosa che ci diceva attenzione, prepariamoci. Oggi a che punto siamo? Siamo molto più vicini a che questa spia venga vista molto più da vicino? Purtroppo sì. Il rapporto dei limiti dello sviluppo del 1972 era un rapporto in fondo ottimistico che avvertiva l'umanità di un problema che avrebbe avuto da lì a 40 anni e sul quale si poteva già fare molto per imprimere un senso diverso allo sviluppo dell'intera umanità. Umanità che allora contava circa 3 miliardi di abitanti. Sono passati 40 anni e siamo più del doppio e abbiamo magnato tante risorse in più, abbiamo prodotto tanto inquinamento in più e abbiamo quindi un problema molto più grosso da gestire. Gli stessi autori che pubblicarono quel rapporto nel 1972, ancora viventi in parte, hanno ripubblicato una nuova analisi nel 2004, tradotta in Italia nel 2006, i nuovi limiti dello sviluppo e nella loro prefazione si legge un po' lo sconforto di dire adesso siamo più vicini al precipizio. C'è ancora uno spazio, però è uno spazio molto più piccolo ed è più difficile cercare di scansarlo. Io sono convinto che comunque vale sempre la pena provarci. E ovviamente bisogna prepararsi. E io ho tentato nel libro di raccontare un po' come si fa. Quindi ho voluto dare una testimonianza in prima persona e ritengo che si possa fare e ci si possa anche divertire.